sitine di protesta dei dipendenti dell'abramo costo marker a crotone resti umani ritrovati sulla renile di santa maria di ricadi dopo quelli trovati in campagna olio nasce dea carolea brand e unico per il dopo la mezzia a crotone il corso di medicina e chirurgia td di unical e omg ben ritrovati con l'informazione di calabria tv i dipendenti della bramo customer care si sono ritrovati nel piazzale del porto a crotone per protestare contro un futuro incerto presenti il sindaco vincenzo voce e la vicepresidente della giunta regionale giussi princi non solo a crotone ma anche a cosenza i dipendenti abramo sono scesi in piazza per la protesta dopo la proraga fino al 31 marzo ottenuta con la mediazione del presidente della regione calabria i tempi stringono e crotone non può permettersi di perdere così tanti posti di lavoro a crotone una delegazione di dipendenti ha protestato davanti la sede della lega navale dove era in corso la presentazione dei corsi di medicina e chirurgia luogo in cui era attesa la vicepresidente della regione giussi princi la quale ha ascoltato i lavoratori insieme al sindaco vincenzo voce si può sbrogliare soltanto grazie al presidente occhiuto che deve che come ci ha promesso troverà una ricollocazione per noi siamo 1070 non sarà una cosa semplice facile ma io no no io noi confidiamo in lui noi confidiamo in lui ci siamo già interfacciati e dobbiamo avere delle risposte e a queste attendiamo per favore signor presidente ci dia delle risposte e soprattutto positive soprattutto ci dica come possiamo essere ricollocati da qui a giugno perché il termine veramente vicino come vedete il vostro futuro questo è proprio io sono sempre stato ottimista e spero vedo positiva cioè no in questo momento positività non ne vedo ma mi sono aggrappata a questa speranza alle parole del presidente e quindi voglio crederci voglio crederci che potremmo avere tutti la possibilità di continuare a lavorare parteciperete allo sciopero indetto certo che parteciperemo è una causa per noi situazione della crisi finanziaria con tutti i soldi che avanza la società che mi risultano almeno 4 milioni 4 milioni se i dati che mi hanno dato sono corretti e quindi c'è un cento di crediti che vanterebbe la società e per cui morire di crediti è ancora più brutto noi in una situazione del genere dove già la cassa integrazione oramai incalza in maniera cosa tanto oggi oggi questo cosa arriva dappertutto voi lo sapete che dove ci sono io voi potete venire sempre nei consigli comunali tutte le cose in maniera educazione perché dopo passate quando abbiamo approfittato di questa cosa avete fatto benissimo ci sono tutte le cose che fa il comune voi voi venite pur ma non l'unica cosa su cui non dovete dubitare io non vi faccio vedere per rispetto i messaggini il lavoro è un diritto costituzionale oltre che una dignità personale per cui siete tranquilli il presidente come vi diceva assunto veramente l'impegno anche di salvaguardare la vostra disposizione per cui siamo con voi il lavoro perso da queste parti ha un peso specifico io dico un posto è già questo quindi figuriamoci quasi quasi inevitabilmente otto tifosi del catanzaro calcio sono stati arrestati poste domiciliari dalla polizia in relazione agli incidenti scoppiati domenica scorsa dopo il derby catanzaro cosenza otto tifosi del catanzaro calcio sono stati arrestati e posti domiciliari dalla polizia in relazione agli incidenti scoppiati domenica scorsa dopo il derby calcistico col cosenza gli arresti sono stati eseguiti in fragranza differita dalla squadra mobile dalla digos di cosenza in collaborazione con la questura di catanzaro e con il coordinamento delle procure della repubblica delle due città tre i reati contestati lezioni aggravate in relazione alle ferite riportate dagli agenti intervenuti devastazione e saccheggio violenza privata danneggiamento e lancio di oggetti atti ad offendere tra gli otto arrestati c'è anche il tifoso del catanzaro che era stato fermato subito dopo gli scontri e portato in questura gli arresti sono stati eseguiti sulla base delle risultanze delle indagini che hanno portato all'identificazione da parte della polizia scientifica della questura di cosenza dei tifosi del catanzaro coinvolti negli incidenti identificazione basata sull'esame delle immagini registrate dalla telecamera del sistema di videosorveglianza agli arrestati vengono contestate anche i reati di violenza e resistenza pubblico ufficiale lancio di materiale pirotecnico porto d'armi e materiale atto ad offendere indagini alla polizia proseguono per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica degli incidenti e naturalmente identificare tutti i tifosi coinvolti dopo il ritrovamento dei giorni fa di resti umani sulla spiaggia della licinella a carpaccio pestum in provincia di salerno uno stesso ritrovamento è avvenuto a centinaia di chilometri di distanza a santa maria di ricadi nel vibonese sono stati infatti recuperati un altro arto mutilato gemello rispetto a quello restituito dal mare nel salernitano si tratta di un piede sinistro infilati in una scarpa di ginnastica con all'interno un calzettone indumenti identici a quelli che erano stati recuperati a capaccio pestum dove domenica un turista tedesco aveva fatto la macabra scoperta gli investigatori dunque non hanno molti dubbi sul fatto che gli arti umani riemersi sia in campagna che in calabria possano appartenere alla stessa persona decisivo ora sarà il test delle dna per provare ad identificare la vittima potrebbe trattarsi di un migrante che ha perso la vita nel mediterraneo durante una attraversata o di una persona scomparsa in mare andiamo avanti forestazione approvato il programma regionale e il piano attuativo annuale non più solo emergenza ma anche programmazione per affrontare al meglio le sfide del futuro in tema di forestazione la calabria scrive pagine nuove lo ha fatto la giunta preseduta da roberto chiuto dando il via libera agli strumenti di pianificazione proposti dalla assessore delegato gianluca gallo in particolare a ricevere disco verde è stato il programma forestale regionale pfr predisposto secondo i dettami del testo unico in materie di foreste e filiere forestali con la calabria prima in italia ad adeguarsi ai dettami della nuova normativa nazionale il pfr elaborato in collaborazione con l'accademia italiana di scienze forestali avrà validità ventennale e sarà aggiornato su base quinquennale e strutturato in più parti interconnesse alla caratterizzazione del territorio calabrese fa seguito un'analisi in termini qualitativi e quantitativi del patrimonio forestale regionale e delle sue peculiarità anche con riferimento alle aree protette e alle siti natura 2000 di interesse forestale il quadro conoscitivo comprende anche una disamina sullo stato della pianificazione forestale e del settore delle sue diverse componenti nonché sulla gestione dei pascoli insieme a questi aspetti è stato fatto il punto sugli usi civici per i quali è stata dettagliata per le singole province e per comuni l'attuale consistenza e tipologia sulla vivaistica forestale e sull'attività di ricerca e sperimentazione svolta dalle università e dagli istituti di ricerca sulla base degli alimenti così ricavati è stata poi eseguita l'analisi del settore forestale in calabria evidenziando i relativi punti di forza e di debolezza le opportunità e le criticità nasce l'etichetta unificata dea carolea marchio del consorzio la mezzia top la presentazione del brand che unifica la produzione olivicola di 27 aziende aderenti al consorzio si svolta in cittadella regionale a catanzaro nei locali del dipartimento agricoltura assolutamente iniziativa di grandissima importanza credo che sia giusto oggi che i nostri territori sempre di più possano valorizzare ciò che di eccellenza hanno allora questo può servire anche ad una migliore identificazione noi dobbiamo vincere la grande sfida la grande sfida sulla qualità ma la grande sfida è anche una giusta identificazione dell'eccellenza delle nostre qualità di questo il grosso successo che io ritengo con l'etichetta unica avremo perché è la prima volta che a livello regionale e noi sappiamo bene quanto individualisti siano i calabresi soprattutto nel settore dell'olio giochiamo con una unica etichetta il che comporta certamente una riduzione dei costi un aumento della nostra immagine dei confronti del mercato e una facilità di raggiungere i mercati molto più scelere molto più rapida con un'unica etichetta si secondo me si superano si bypassano tanti problemi che fin qui abbiamo avuto perché uno dei limiti proprio della società calabrese olivicole quella di una frammentazione notevole concentrare l'offerta e arrivare ai mercati significa significa usare proprio strumenti di questo tipo etichetta unica e quanto altro la cooperazione è fondamentale i consorci sono un elemento importante per fare in modo che in i nostri produttori stiano insieme siano anche più forti rispetto alle difficoltà del mercato nel settore l'ivicolo in particolare nel quale stiamo cercando di modificare è completamente il racconto perché abbiamo un piano olivicolo che adesso abbiamo definito insieme al crea e che ci dirà cosa faremo nei prossimi anni della nostra olivicoltura che è il lab del settore agricolo calabrese e poi una serie di iniziative con investimenti anche nel PSP che ci porteranno ad investire 50 milioni di euro per un rinnovo varietale oltre il bando sui frantoi le misure sulla promozione anche una revisione della legge di tutela sugli olivi affinché non sia una camicia di forza quindi un programma a 360 gradi noi abbiamo una IGP per tutta la regione e abbiamo appena presentato un marchio unico e poi ci sono tante DOP come questa DOP Lamezia che oggi fa un deciso passo in avanti con questa iniziativa che noi consideriamo un'iniziativa di grande interesse perché finalmente abbiamo giovani, donne, uomini, imprenditori capaci che stanno cambiando il racconto della nostra olivicoltura innanzitutto abbiamo iniziato ad imbottigliare in maniera seria e poi cominciamo a coltivare oltre che i nostri livetti anche quella che io considero fondamentale l'ambizione della qualità. I rettori dell'Università Magna Grecia e dell'Unical hanno presentato il corso universitario in medicina e chirurgia TD tecnologie digitali a Crotone. 84 posti disponibili a Crotone nel primo anno 2024-2025. Parte il corso di laurea in medicina e chirurgia in via IEPG a Crotone nella facoltà di interateneo dell'Unical e dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Si parta ad ottobre con i primi tre anni di studio a Crotone per poi continuare nella città a capoluogo con gli ultimi tre anni. Una offerta formativa di alta qualità in una provincia che finora ne è stata ingiustamente, aggiungerei, priva. Il corso è stato presentato presso la Lega Navale Italiana, dal rettore dell'Unical Nicola Reone, dal rettore dell'Università Magna Grecia Giovanni Fuda, da Giussi Princi, vicepresidente della Giunta regionale, dal presidente della provincia di Crotone, Sergio Ferrari e dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, insieme ad Antonio Brambilla, commissario dell'Asp. Ma insomma, noi avviamo un processo che poi fra qualche anno speriamo possa portare proprio a questo fra i vari obiettivi, cioè quello di creare una sanità di qualità, un'offerta sanitaria di qualità che possa consentire a tanti, troppi cittadini di Crotone e della provincia di doversi recare fuori. Quindi sono estremamente ottimista su questa posizione. Benefici anche per il territorio e l'ospedale di Crotone, insomma? Assolutamente sì, perché la presenza di un polo di alta formazione come quello che avvieremo dal prossimo anno accademico genererà un indotto che non è soltanto un indotto culturale ma anche economico naturalmente e soprattutto di buona sanità. Per quanto riguarda la sede dei corsi di medicina Crotone? Sì, il Comune ha metto la posizione dei locali in via Iapigi, locali molto belli, nuovi, appena ristrutturati e l'università si è impegnata ad allestire le aule, ad allestire i laboratori, in particolare il laboratorio di anatomia, il laboratorio di istologia, il laboratorio di informatica e il laboratorio di inglese, in modo che gli studenti sin dal primo anno, sin da ottobre possano fruire di tutto quanto necessario per avere una formazione di qualità. Diciamo che è un investimento importante questo dell'Unical Crotone. È un investimento importante perché l'Unità della Calabria crede in questo progetto, pensa che possa essere a beneficio del territorio e creare delle sinergie positive. La Regione Calabria, il Dipartimento di Istruzione, ha stanziato 15 milioni di euro attraverso cui andrà a soddisfare il diritto allo studio e quindi le borse di studio di tutti quanti gli studenti calabresi collocati in graduatoria e quindi non soltanto gli aventi diritto che in questo caso andranno ad essere sostenuti dal sistema accademico calabrese, quindi dalle singole università, ma noi andremo a soddisfare le istanze di tutti quanti gli studenti collocati in graduatoria per cui cofinanziamo con 15 milioni di euro le borse di studio degli studenti universitari di tutte le università della Calabria. Nell'aula magna dell'Istituto Tecnico dei Philips Prestia di Libo Valencia si è tenuto l'incontro di riflessione con Rocco Pugliese sui giusti tra le nazioni alla presentazione di l'ebook realizzato dagli studenti che hanno scelto di piantumare due olivi nel giardino della scuola, dedicandoli alla memoria di Irene Sandler e Angelo De Fiore. Nel 2012 il Parlamento europeo ha proclamato il 6 marzo giornata europea dei giusti per commemorare coloro che si sono posti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi, estendendo il concetto di giusto elaborato da Yad Vashem grazie all'impegno di Moshe Beinsky a tutti i genocidi e i totalitarismi. Viene celebrato ogni anno il 6 marzo perché è anniversario proprio della morte di Moshe Beinsky. A Vibo Valencia l'Istituto Comprensivo dei Philips Prestia ha scelto di vivere questa giornata attraverso alcune riflessioni scaturite dai lavori svolti dagli studenti sotto la guida delle professoresse Anita Argiro e Rita Lucetadella. Gli studenti del De Philips Prestia si sono quindi concentrati su alcuni di questi giusti dell'umanità e affiancati dai docenti Giovanni Rubino e Pietro Comito hanno messo in evidenza quei non ebrei che sono intervenuti a salvare uomini e donne dalla Shoah pur sapendo di mettere in pericolo la loro vita. Ne è scaturito un dibattito interessante che ha toccato anche temi di drammatica attualità grazie alla presenza di Rocche Pugliese, referente per la Calabria della comunità ebraica del Meridione. Parlare dei giusti è la strada per avere la speranza, di rinnovare la speranza che l'umanità possa vivere in pace, vivere in un senso di giustizia, di uguaglianza, di fratellanza. L'esempio dei giusti che ci hanno dato persone semplici che sapevano che potevano morire. si sono messi contro una logica di ideologia e di massa per salvare persone. Ecco, il giusto è quello che guarda l'uomo nella sua essenza, nell'umanità. Non si è dimenticato di essere uomo, è agito come uomo. E poi, finita la sua missione, è tornato nel silenzio, non si è vantato. C'è una grande differenza tra il giusto e l'eroe. L'eroe può vantarsi di quello che ha fatto, il giusto no, non poteva vantarsi. Ecco, tutto questo riguarda il passato, ma sta diventando di drammatica attualità. Purtroppo sì, viviamo un'epoca in cui vi è una scarsa sensibilità per l'individualismo e per il senso critico. E quindi è molto facile che ci si adegui a un concetto di cultura di massa che ci ricorda tempi bui. E' stata celebrata a Rocella Ionica nel Regino una giornata dedicata al pensiero scout e alla memoria di una figura tanto amata, Elisa Scali. Il 22 febbraio di ogni anno in tutto il mondo si celebra la giornata del pensiero scout, un'occasione per riflettere sui valori dello scoutismo e per rinnovare l'impegno verso essi. Anche a Rocella Ionica, anche se con qualche giorno di ritardo presso Largo Colonne, si è tenuta una commovente celebrazione che ha visto la partecipazione degli scout a Gesci, dei vecchi scout e dei membri del Masci, che ricordiamo sono gli scout adulti. La giornata è stata caratterizzata da giochi, canti e momenti di profonda riflessione, dedicati anche alla memoria di Elisa Scali, recentemente scomparsa, la cui presenza è stata sentita e onorata durante l'evento. Una giornata speciale per festeggiare un po' il compleanno dello scoutismo, noi lo chiamiamo Thinking Day o la giornata del pensiero. È un momento in cui ci ritroviamo ogni anno con tutto quanto il gruppo, ma non solo con il nostro gruppo, ma anche con quelli che sono stati scout in passato, ex soci e che oggi portano ancora nel cuore i valori e l'amore per lo scoutismo. Insieme a noi oggi ci sono anche i fratelli scout più adulti, quelli del Masci. Sarà un pomeriggio all'insegna del gioco, dello stare bene insieme. Ricorderemo anche chi ci ha preceduto in questa vita terrena. Vivremo un momento particolare, non lo posso svelare per ora perché è una sorpresa, quindi una giornata, un pomeriggio di scoutismo anche per promuovere lo scoutismo che è uno strumento fondamentale per l'educazione dei giovani. Il Movimento Scout in Italia è l'associazione che conta più ragazzi iscritti rispetto a tutti quanti e a livello mondiale, l'associazione più grossa a livello mondiale. Questo proprio perché lo scoutismo, anche a distanza di più di 100 anni da quando è stato pensato, ideato da Baden Powell, rimane sempre uno strumento validissimo di gioco, ma soprattutto di educazione e di crescita per i ragazzi. Nelle acque antistanti, la spiaggia di Riace, in località Porto Forticchio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la richiesta avanzata mesi fa da studiosi ed esperti, guidati dal freelance scrittore Giuseppe Brago, di effettuare degli scavi sistematici sia in acqua, sia sulla prospicente linea costiera per un nuovo impulso alla ricerca archeologica. Dopo il recente rinvenimento di reperti antichi nelle acque di Riace, tra cui il manufatto bronzio che ricorda un occhio di stato ed alcuni dettagli legati alla costruzione navale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la richiesta di esperti guidati dal noto scrittore Giuseppe Brago, ordinando mesi di indagini archeologiche subacquee nelle acque di Riace, presso località Porto Forticchio. Sempre Giuseppe Brago sottolinea l'importanza di condurre scavi sistematici sia in acqua che lungo la costa, affermando che ciò potrebbe dare un nuovo slancio alla ricerca archeologica. L'obiettivo non è solo quello di esplorare i misteri del passato, ma quello di preservare l'integrità del contesto archeologico di Riace Marina. L'annuncio è stato accolto con soddisfazione del primo cittadino di Riace, Antonio Trifori, che sottolinea l'importanza di avviare scavi con esperti per esplorare ulteriormente il mare ed individuare eventuali nuovi tesori. L'idea poi di trasformare la zona in un'area archeologica fruibile dai visitatori è stata accolta con favore, poiché potrebbe rappresentare una nuova opportunità per la valorizzazione turistica ed economica della regione. Secondo Trifoli, Riace potrebbe così presto diventare una destinazione imperdibile per gli amanti dell'archeologia e dei viaggi culturali, offrendo un'esperienza unica e affascinante che combina la bellezza del mare con la ricchezza del suo patrimonio storico. Bene, è tutto per questa edizione del Tg, grazie per aver seguito la nostra informazione.